ciao a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia ed oggi vi mostro la mia libreria in un precedente video vi ho già mostrato le mie mensole a tema steven king come sapete steven king è il mio scrittore preferito di conseguenza ho deciso di dedicare un angolino soltanto a lui ma qui tengo tutto il resto che comunque non è poco di conseguenza un bel po da farvi vedere anche oggi per quanto riguarda la sistemazione dei libri all'interno della mia libreria io non vado in senso logico ma vado in senso cromatico per me l'occhio vuole la sua parte soprattutto se parliamo di una zona come questa quindi una libreria in pieno corridoio completamente esposta agli occhi di chiunque passi all'interno di casa mia quindi voglio che sia in ordine e per quanto mi riguarda per far sì che questa risulti sempre ordinata e coerente deve avere un senso cromatico e anche piacevole alla vista semplicemente in generale per questo vedrete molti libri anche girati nel verso delle copertine tipo queste come se fosse una vera e propria esposizione da negozio perché mi piace che la libreria sia effettivamente bella dal momento che come vedrete non utilizzo nulla per abbellirla perché non mi piace mettere sopra mobili vari e soprattutto quelli che magari non c'entrano neanche granché quindi preferisco utilizzare i libri belli come ornamento quindi vediamo molti scaffali che sono divisi per colore altri sono divisi anche per marchio ma questo è dovuto semplicemente al fatto che magari quelli dello stesso marchio hanno tutti la stessa altezza quindi stanno bene insieme perché danno un senso di ordine ecco non so se mi sono spiegata comunque ci sono molte persone che tendenzialmente preferiscono giustamente dividere libri per genere quindi mettere tutti quelli di narrativa mettere tutti i romantici mettere tutti i thriller o gli horror insieme io invece non divido i libri in questo senso ma solo dal punto di vista estetico quindi non vi stupite se mi vedete un romance vicino un horror ok direi di iniziare con una panoramica generale la libreria è la billy e al piano superiore i primi tre scaffalini che vedete sono quelli del mio fidanzato che ha praticamente tutti gli album delle monete da 2 euro che vedete qua lui le colleziona più one piece a lui piace one piece quindi sono tutti qua tutto il resto della libreria invece appartiene a me a partire da questo scaffalino qui che ha praticamente dei libri di cui non mi interessa particolarmente fare sfoggio e poi niente passiamo al secondo scaffale qua come vedete divido più per copertine rigide e copertine flessibili però di libri con una dimensione più grande qua passiamo a dei libri un po' più piccoli perché lo scaffale si va a stringere e andiamo sulle tonalità del blu qua torniamo sulle tonalità scure qua come vi farò vedere tra poco ci sono tutti i libri di mina lima qua cominciamo con le illustrazioni di la comb infatti questo scaffale tipo il mio preferito in assoluto e qua andiamo ai fumetti di zero calcare andando verso il basso qua invece ci sono tutta una serie di altri libri anche qua divisi in senso cromatico come vedete questo è l'esempio di un'esposizione che mi piace tanto anche se occupa tanto spazio però piuttosto che lasciare i buchi ecco preferisco mettere i libri in questo modo e mettere soprattutto libri che siano esteticamente molto gradevoli qui come potrete vedere ci sono tutti gli adelfi sotto ci sono tutti gli enaudi bianchi e poi niente qua andiamo per colore rosa colore rosso colore giallo messo qua in fondo solo e lucchiamente perché il giallo non mi piace tantissimo e qua sotto un praticamente uno scaffale misto poi gli altri due scaffali qua sotto sono tutti bianchi quindi libri bianchi che però non sono di nessun marchio in particolare allora direi che possiamo passare a agli scaffali veri e propri partendo da questo qua questo scaffale in realtà se vogliamo forse il più tematico di tutti perché è praticamente tutto a tema vampiri a parte l'ultimo che è di harry potter è tutta la saga di twilight con l'intervista del vampiro di henry rice e l'ospite sempre di stephanie meyer più un altro libro tre metri sotto terra che mi aveva regalato mia zia anni e anni fa sapendo che mi piacevano gli horror e poi c'è danze dall'inferno che contiene appunto un un racconto di stephanie meyer harry potter è lì perché è l'unico harry potter che possiedo perché vi sembrerà strano ma io non possiedo i libri di harry potter o almeno ho quelli illustrati da mina lima i primi due ma gli altri non ce li ho perché harry potter l'ho tutto ascoltato in audiolibro e l'ho fatto solo due anni fa se non erro però niente è l'unico che possiedo non so dove metterlo e quindi l'ho messo lì in mezzo passando invece ai piani inferiori ho casa di foglie di dell'elensky un libro labirintico a cena con l'assassino di alexandra benedict che è un libro tema natale thriller storia di neve di mauro corona la linea di frank tiliaz il manoscritto di cui non ho ancora letto nulla ma che sembrerebbe essere perfettamente nei miei generi quindi questo mese probabilmente questo me lo leggo brava ragazza cattiva ragazza e la ragazza che viene dal buio di michael robotam il primo e il secondo libro della serie che è una serie che comunque mi è piaciuta molto il racconto dell'ancela di margaret atwood una stanza piena di gente di daniel keys che è il racconto di billy milligan il ragazzo con 24 personalità e la saga di hunger games come vedete qua in mezzo non c'è alcun senso semplicemente che i libri stanno bene insieme perché sono tutti scuri la copertina non è lucida e sono più o meno la stessa altezza spostandoci nello scaffale a sinistra troviamo teddy di jason re kulak che mi è piaciuto tantissimo ed è un libro molto piacevole da leggere perché ci sono anche delle illustrazioni all'interno che sembra appunto richiamino quello che ci viene raccontato la mamma si è addormentata di romy hausman non mi ha fatto impazzire jacopo de michaelis la stazione molto molto bello martin griffin l'impostore nulla di eccezionale barbara balaldi cambiare le ossa e il nove che uccide di vito franchini non li ho ancora letti e poi qua c'è tutta una serie di libri di wolfdorn che ho preso in stock quindi erano tutti insieme ne ho letti due il mio cuore cattivo che mi è piaciuto e fobia che invece non mi è piaciuto per niente quindi non ho idea di come siano gli altri spostandoci ancora a sinistra troviamo sezione copertine rigide partendo da donato carrisi almeno quelli che ho in copertina rigida e che stavano bene insieme quindi la linea della casa delle voci e l'uomo del labirinto che in realtà fa parte della linea del suggeritore che ho ma non era uguale quindi non ci stava bene qua in mezzo e quindi ce l'ho da un'altra parte qua in libreria però l'uomo del labirinto volendo si può leggere anche da solo senza aver letto gli altri libri e ve lo consiglio perché è molto bello steven chboschi l'omico immaginario non l'ho ancora letto paola barbato l'ultimo ospite e zoo questo l'ho letto mi è piaciuto un sacco zoo invece mi manca tutto chiede salvezza di daniele mancarelli che mi è piaciuto tantissimo di katie alender le cattive ragazze non muoiono mai che è un libro che io lessi veramente tantissimi anni fa una cosa come 15 anni fa e però ci sono molto affezionata perché mi ricordo che mi era piaciuto parecchio sarei curiosa di leggerlo ora dopo tanti anni e andrea de longu contrappasso che è un libro molto molto interessante anche se non l'ho ancora letto è la storia praticamente di un futuro distopico in cui il nostro destino la nostra vita e la nostra morte è strettamente legata alla vita degli animali se una persona uccide un animale questa morirà nello stesso modo in cui l'animale è morto immaginatevi una vita del genere anche per esempio con le formiche in cui tu devi stare attento anche a schiacciare il minimo insetto sono veramente molto curiosa di leggerlo non so perché non l'ho ancora fatto passiamo di qua continuiamo con le copertine rigide la nona casa di libardugo in realtà fa parte di una serie è uscito da poco il secondo che non ho perché non ho ancora letto questo quindi non ha senso prendere il secondo poi paola hawkins dentro l'acqua e la ragazza del treno bad time di alberto marini che l'ho preso usato su amazon e mai più perché non è arrivato proprio in ottime condizioni dei chain guglielmo del toro la porta del male glen cooper la biblioteca dei morti letto una cosa come 15 anni fa mi ricordo che non mi era piaciuto per niente l'avevo tenuto perché forse volevo dargli un'altra chance ma mi sa che non durerà molto questo risveglio a parisi di margherita ogero onestamente non l'ho comprato io me l'hanno regalato non lo so potrebbe essere nei miei generi come no voglio dargli una chance la donna senza memoria di anthony mosawi letto in una vacanza niente male e wall di hug howe parla praticamente della storia del silo in un futuro distopico in cui non è più possibile vivere in superficie quindi tutta l'umanità si è trasferita in dei silo sottoterra e questo dovrebbe essere il primo di una serie ho letto solo questo che comunque sia era interessante oltretutto l'ho letto durante la lockdown quindi a proposito di momenti claustrofobici ecco però boh non lo so non mi ha mai invogliata a continuare la lettura scendiamo qua ritorniamo alle copertine flessibili in particolare le copertine un pochino più piccole a parte i primi la custodia dei peccati di megan campisi letto molto molto carino è la storia praticamente di una ragazza che è costretta al silenzio e a mangiare letteralmente i peccati dei morti attraverso i vari cibi che le vengono posti sopra la bara per espiare i morti dai loro peccati vi ho fatto comunque un video in cui ve ne parlo e ve lo lascio nelle i banana yoshimoto kitchen in una bruttissima e vecchissima edizione non mi piace per niente però niente era quella che costava meno su vinted e l'avevo comprata una di quelle volte in cui non sapevo ancora bene come funzionava e quindi alcune cose non le ho comprate come avrei voluto piranesi di susanna clark le copertine di susanna clark secondo me sono stupende la balia di novali meyer un libro thriller letto un bel po' di tempo fa ma che mi è rimasto impresso eccolo qua il suggeritore di donato carisi che in realtà è in rigida però è molto piccolo e non ci stava per niente bene là in cima quindi l'ho spostato qua in realtà non so neanche se lo terrò perché non è che mi ha fatto impazzire l'uomo che sussurrava i cavalli questo libro ha vent'anni questo libro ha vent'anni e è il mio libro preferito da bambina perché io amavo i cavalli facevo equitazione circe di medley miller stardust e il figlio del cimitero di neil gayman ho letto il figlio del cimitero mi è piaciuto molto stardust invece mi manca ancora ho trovato poi queste edizioni abbastanza vecchie come potete vedere di patricia highsmith il talento di mister lee play e il grido della civetta e niente sono curiosa di conoscere questa autrice intanto ho preso questi due che erano insieme non mi ricordo se costavano boh 3 euro l'uno 2 euro 50 l'uno poi l'importanza di essere onesto di oscar wilde e il ritratto di dorian gray dracula tutti e tre mi mancano perché a me i classici stanno un po' sulle balle sempre di patricia highsmith gente che bussa alla porta e la donna in nero di susan hill poi spostiamoci a destra e comincia la zona blu in bella vista ho voluto mettere questo di ml rio if we were villains che è secondo me molto bello esteticamente e qua ho una vecchissima edizione del giardino segreto che mi avevano regalato la comunione è un libro illustrato e non lo so ci sono affezionata la ragazza di neve di javier castillo il fabbricante di lacrime che non so se mi piacerà o meno anche questo ovviamente preso usato jonathan stringe il signor norrell sempre di susanna clark il mondo di sofia che parla della storia di una ragazza che praticamente attraverso le sue vicende ci racconta la filosofia in generale quindi deve essere molto carino ma non l'ho ancora letto fiori sopra l'inferno di laria tutti che ho letto ed è molto bello ma a me gli investigativi con i classici ispettori eccetera eccetera non mi piacciono quindi non andrò avanti con la saga però questo devo dire che effettivamente era molto bello continuiamo col blu devo dire che questo scaffale mi piace molto come è venuto comunque di Ali Hazelwood de Love Hypothesis il teorema dell'amore che come vedete c'entra poco qua in mezzo nel senso che sono praticamente tutti thriller a parte l'ultimo la ragazza invisibile di Lisa Jewel non so le pronunce lasciate stare veramente non mi correggete perché tanto è inutile la psicologa di Paris l'enigma della camera 622 di Joel Dickel terribile terribile veramente intricato da morire e terribile la bambina dei muri di Gnus questo non l'ho ancora letto l'ho preso così a scatola chiusa in libreria ma aveva ispirato la donna che rubava mariti di Margaret Atwood acquisto recentissimo e anche uscita recentissima e la biblioteca di mezzanotte di Mad Hague passiamo a destra e vedrete che ci sono altri libri sul nero torniamo sul tema nero Bones and Doll di Camille De Angelis letto e mi è piaciuto molto la scomparsa di Stephanie Meyer di Joel Dickel di suo vedrete anche la verità sul caso Eric B che al contrario dell'altro mi è piaciuto molto quindi questo è lo spareggio se mi piace bene se non mi piace basta non prenderò più niente di Joel Dickel Il filo della tua storia di Nicky Elric che è una recentissima uscita La vita perfetta di Renek Knight Rilley Sager a casa prima di sera che dovrebbe essere un libro riguardante una storia di fantasmi Sayonara Gangster non mi chiedetevi prego di pronunciare questo nome qui perché non ce la posso fare comunque consigliatissimo da Matteo Fumagalli e noi di lui ci fidiamo sempre After Dark di Murakami onestamente non mi è piaciuto tantissimo non so perché non mi ha detto nulla questo libro Lamento di Portanoi e la macchia umana di Philip Roth non vedo l'ora di leggerli questi due ma ogni volta non so perché non li prendo mai La fattoria degli animali di George Orwell letto fantastico L'ipnotista di Lars Kepler classico thriller psicologico che mi aspetta qua in libreria da un bel po' Dio d'illusioni di Donna Tart qua da troppo tempo l'inventrice praticamente della Dark Academia ma non l'ho ancora letto e L'anno dell'oracolo di Charles Saul che dovrebbe essere un libro che parla appunto di premonizioni Passiamo ora alla parte sottostante che è la linea che più mi piace perché è quella espositiva qui ho tutti i bellissimi libri illustrati da Mina Lima ho i due Harry Potter aprite bene le orecchie e segnatevi questa data il 3 ottobre voci di corridoio dicono dovrebbe uscire anche il terzo quindi se siete appassionati occhio ho anche Il Giardino Segreto Il Livro della Giungla Il Meraviglioso Mago di Oz Peter Pan Alice nel Paese delle Meraviglie La Sirenetta e altre fiabe Biancaneve e altre fiabe La Bella e la Bestia Le Aventure di Pinocchio allora vabbè ho letto i primi due di Harry Potter poi ho letto Le Aventure di Pinocchio Biancaneve e altre fiabe La Sirenetta e altre fiabe Alice nel Paese delle Meraviglie gli altri mi mancano il motivo per cui li ho tutti è perché praticamente il mio ragazzo mi aveva regalato 4 di questi libri tutti a Natale per quelli che mi mancavano in sostanza questo è un altro scaffale che come potrete immaginare mi piace tantissimo con tutti i libri illustrati di Benjamin Lacombe che possiedo più qualcuno in più Racconti Macabri di Edgar Allan Poe il volume 2 Storia di fantasmi del Giappone Spiriti e creature del Giappone Donne Samurai che è l'ultima uscita e mi è arrivato da pochissimo praticamente aspettavo lui per farvi questo video Notre Dame de Paris letto meraviglioso poi La Faglia delle Fate di Iris Campier e poi Coraline illustrato che oltretutto lo sto leggendo in questi giorni poi qui ho fatto una specie di altarino lo so che è brutto detto così con i libri che più mi piacciono di Benjamin Lacombe a meno per quanto riguarda le illustrazioni La Sirenetta è meraviglioso se potete regalarvelo io ve lo straconsiglio so che è un libro breve ma leggere La Sirenetta con le illustrazioni di questo illustratore meraviglioso è veramente un'esperienza che vi straconsiglio di fare Bambi e qua Streghe l'enciclopedia del meraviglioso c'è anche Fate come linea infatti lo vorrei prendere ma praticamente l'ho preso in contemporanea alla Faglia delle Fate non mi sembrava il caso di prendere due libri a tema Fate insieme passiamo ora di qua e c'è Zero Calcare io non amo leggere fumetti ma Zero Calcare mi piace ho No Sleek Till Senegal la profezia dell'armadillo un polpo alla gola dimentica il mio nome stupendo meraviglioso ve lo consiglio anche se non vi piace Zero Calcare ogni maledetto lunedì su due e la scuola di pizze in faccia del professor calcare letti tutti mi manca solo un polpo alla gola perché mi è arrivato recentemente e No Sleek Till Senegal non so perché ma penso che sia più impegnativo degli altri e quindi ogni volta mi procrastino la lettura comunque niente tutti gli altri invece li ho letti passiamo ai piani inferiori e cominciamo con i colori un pochino più chiassosi tra virgolette qui ho deciso di mettere i libri sulle tonalità un pochino più del verde infatti da qua in poi c'è la zona di non so come dirlo letture vegan quindi che trattano il vivere con gli animali vegan aggiustiamo il mondo ecologia del desiderio è facile diventare un po' più vegano quindi letture che riguardano un pochino la filosofia vegana e in generale l'ecologia poi Voci nella nebbia Le sorelle Hollow di Crystal Shatterland bellissimo fantasy noir Il palazzo della mezzanotte di Zafon di cui ho anche Marina non è dello stesso colore però era qua questo quindi perché non metterci anche il compagno e poi La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano Più Sortilegi di Bianca Pizzorno che è praticamente un libro che mi è stato quasi omaggiato in un set Vinted poi passiamo di qua dove torniamo sulle tematiche del verde acqua azzurrino come vedete qua ho esposto di TJ Klune La casa sul mare celeste sotto la porta dei sussuri perché sono oggettivamente molto molto belli da vedere infatti ero indecisa se posizionarli magari in altri scaffali separatamente ma visto che questo era un po' scarno ho deciso di metterli qua così comunque Ho un amore di Dino Buzzati Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Johnson Una lucertola nel fiato di Mariella Caporale che è un libro che mi hanno regalato Le quattro casalinghe di Tokyo di Nazzuokirino e I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni molto molto carino questo qui comunque anche qua vedete c'è un senso cromatico in tutto ciò ma assolutamente nessun senso per quando riguarda i generi Continuiamo sul tema verde e acqua questo lo so che non è verde e acqua ma in realtà questa parte sì e in più ci sono dei colori del pesciolino che richiamano le altre copertine quindi vabbè a me piace Luce dalle altre stelle Sharp Object di Gillian Flynn Ora ti vorrei qui di Kathleen Glasgow Il lato oscuro della moda questo lo stesso fa parte della serie Ecologia però stava bene qua Margaret Manzantini Non ti muovere Manuale di caccia e pesca per ragazze di Melissa Blanc Letto nulla di che e la vecchissima edizione di Le Cronache di Narnia con praticamente i tre volumi io questa qui l'ho lessi tutto quando ero veramente bambina però a parte diciamo le storie che hanno messo la televisione che ci hanno fatto i film e non è che le altre siano eccezionali ecco comunque niente ce l'ho e lo tengo lì a un bel ricordo Passando ora a questo scaffale qua cominciamo a essere più nei toni sull'azzurrino e cose che non sono bianche alla fine Amabili Resti di Alice Sebold meraviglioso bellissimo e forse uno dei pochi libri che mi ha fatto piangere Membrana di Cheetah Way L'amica geniale di Anena Ferrante Una vita come tanti di Anaya Nagiara La casa impura di Fuyumi La sicurezza degli oggetti di A.M. Holmes che è un libro veramente delirante ma assolutamente fantastico Seta di Baricco La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo Il predatore di anime di Vito Franchini Memoria di una geisha Arthur Golden McEwan Cezil Beach Mamma mia una palla sto libro una palla Anima non mi chiedete di leggere l'autore questo mi attira tantissimo una storia thriller narrata dal punto di vista degli animali che hanno assistito al delitto questo lo voglio leggere assolutamente questo mese Il Tribunale delle Anime un altro libro di Donato Carrisi che non stava bene nello scaffale di sopra Margaret Mazzantini Nessuno si salva da solo Passiamo ora a questo scaffale che è lo scaffale degli Adelphi con qualche Enaudi perché voi dovete sapere che gli Enaudi comunque non hanno tutti la stessa altezza e al piano di sotto vedrete dopo ci sono effettivamente tutti gli Enaudi un pochino più alti quindi questi fatalità erano precisi come altezza agli Adelphi che comunque non riempivano tutto lo scaffale e quindi li ho infilati lì ci stanno tutti precisi quando mi arriverà qualche altro Adelphi o qualche altro Enaudi sarà un problema ma ci penseremo più avanti di Shirley Jackson abbiamo sempre vissuto nel castello l'incubo di Hill House e Lizzie che lo so che io l'ho messo separato ma cromaticamente c'erano prima questi due l'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera e il codice dell'anima di Hillman l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks di Abbott Flatlandia Lolita di Nabokov Gogol racconti di Pietroburgo la sovrana elettrice di Bennet di Shine la lettera d'amore la settimana bianca di Carrère di Patrick McGrath Follia e la vegetariana di Hank Kang poi degli Enaudi la nausea di Sartre serie lune di persone normali una stanza tutta per sé di Virginia Woolf di Fitzgerald il grande Gatsby e la vendetta di Agota Christophe vi vorrei far presente questa cosa molto buffa io adoro gli Adelphi ma ne ho letti solo due di questi che sono Abbiamo sempre vissuto nel castello e Patrick McGrath che sono due che mi sono piaciuti tantissimo però non so perché questo scaffale è talmente fatto bene esteticamente che non mi viene da togliere i libri da qua perché lo rovino quindi mi sono decisa ho iniziato a leggere L'uomo che scambia sua moglie per un cappello perché niente volevo rompere questo volevo rompere questo circolo vizioso che mi impedisce di toccare questo scaffale ed ho anche letto persone normale e la nausea però tutti gli altri di questo scaffale non li ho toccati ed è assurdo perché io gli Adelphi continuo a comprarli convinta che mi piacciano ma perché sono talmente condizionata da questi due che mi sono piaciuti tantissimo che vabbè comunque torniamo a noi e passiamo allo scaffale di sinistra qui c'è del rosa ma non perché siano dei romance anzi tutt'altro come uccidere la tua famiglia Kathleen Glasgow e poi ci sono io bellissimo Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olcato Amelino Tomb Le cattilinarie I terrestri di Murata Sayaka Sirene di Laura Pugno Un'aquila nel cielo di Wilbur Smith io questo libro l'ho letto una cosa come 15 anni fa non mi era neanche piaciuto tantissimo quindi non so perché lo tengo ancora ma non riesco a darlo via Silvia Platt La campana di vetro Anatomy Una storia d'amore di Dana Swartz meraviglioso cioè questo libro esteticamente è stupendo e anche la storia comunque non era male vi ho fatto oltretutto un video apposito ve lo lascio nel lei andiamo a sinistra sezione rossa più o meno qua vedete libri rossi più libri che hanno un qualcosa di rosso che c'entra col rosso secondo la mia psicologia io poi ripeto alla fine faccio quello che sembra stare bene insieme e qua c'è un che di armonico allora questo che è un libro di ciecoslovacchi da cane a cane preso quando appunto dovevo prendere Halloween poi L'avversario di Manuel Carrer Non buttiamoci giù di Nick Orby Daniele Mencarelli Sempre tornare A occhi chiusi di Paola Hawkins che appunto è una copertina rigida ma è troppo piccolo rispetto agli altri che ho lì su quindi l'ho messo qua Norwegian Wood di Murakami I gene dell'assassino di Amelino Tomb come potete vedere a me non è che interessi tanto che gli autori siano vicini cioè vado proprio a colore quindi anche se devo dividere degli autori o delle linee non me ne frega niente l'importante è che i colori siano bene insieme gli unici sono gli Adelphi perché effettivamente gli Adelphi hanno colori comunque che si armonizzano da soli se riesci a fare una bella scaletta per il resto invece metto tutto come capita qua per esempio c'è un Adelphi Shirley Jackson La Lotteria perché questo era più piccolo degli altri quindi stava meglio qua Il Sangue Versato di Asa Larson invece è un libro che mi hanno regalato in libreria perché avevo preso talmente tanti libri che uno me l'hanno regalato ovviamente l'hanno scelto loro e mi hanno dato questo qua Fumio Sasaki Fai spazio nella tua vita periodo del minimalismo strong ecco è nato da questo libro George Orwell 1984 fantastico Le assaggiatrici di Rossella Pastorino Giuseppe Saramago Cecità non so perché non ho ancora letto questo libro mi sto maledicendo da sola Chi ha peccato Anna Bailey La meccanica del cuore Mattias Malzieu molto carino Il buio della siepe Harper Lee Ian McEwan l'inventore di sogni Battle Royale e L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito che lo so che non è rosso ma c'ha qualcosa di bordo quindi ci stava andiamo a sinistra penso che ormai l'abbiate capito qua ci sono tutti i libri gialli e in generale l'ultima parte della libreria è la parte che si vede meno quindi ci metto i libri che mi piacciono un pochino meno o i colori tipo il giallo nonostante ci sia questo libro che è favoloso cioè favoloso è terribile ma è favoloso sono contenta che mia mamma è morta di Jeanette McCarty quindi in realtà meriterebbe di essere messo in bella vista niente siccome è giallo mi tocca metterlo qua poi ho frammenti di lei di Karin Slaughter tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno di Benjamin Stevenson tutto quello che so sull'amore di Dolly Alberton non aprite quella morta di Lansdale la notte la mia voce di Sarki che la festa cominci di Ammaniti lo squalificato di Dazai High and Dry Prima Amore di Banana Yoshimoto Io e te di Amaniti e Fango sempre di Amaniti passiamo allo scaffale in basso che è lo scaffale più brutto di tutti dove ci sono i libri che essenzialmente non so dove infilare dunque qui c'è Il Segreto di Greta che è un libro che mi hanno dato in regalo con un Orrini Vinted quindi io non l'ho scelto è arrivato non so neanche di cosa farla il processo di Kafka in questa edizione è terribile l'ho preso in un mercatino dell'usato non so che cosa mi è saltato per la testa Ricco solo risparmiando di Francesco Narmenni e The Miracle Morning libri di crescita personale anche se questo di Narmenni secondo me è molto valido La Casa Maledetta e Altre Coupe Storie di Grazia Dell'Edda in realtà questo è un libro che io ho letto ma che non ho neanche votato per il semplice fatto che è un libro sardo di una scrittrice sarda e io avendo parenti in Sardegna niente ho voluto un attimo leggere di qualcosa delle mie origini Il Quinto Figlio di Doris Lessing è fantastico L'Amico Ritrovato La Notte Richard Buck il gabbiano Jonathan Livingston è Casa di Bambola questi tre li essi a scuola non me li ricordo quindi prima di darli via voglio vedere se gli ridò una letta Il Senso degli Innocenti di Thomas Harris Il Cielo è Bianco questo è un libro stranissimo che mi è stato dato da persone che non volevano più dei libri e niente me l'hanno regalato insieme a questo uscita dall'attacco di panico di Silvia Grassi Le Notte Bianche di Dostoevsky La Notte Eterna del Coniglio di Giacomo Gardumi mi incuriosisce un sacco è tipo un distopico dove c'è un coniglio rosa che ammazza la gente Vivere Intenzionalmente di Silvio Gulizia Uomini e Topi di Stainback e questi qui che in realtà sono molto carini ma che non ci stavano con i colori delle altre cose per questa stessa rugiada di Martha Di Grande La Ragazza della Palude di Delia Owens e non lo leggo comunque finché non leggerai quel libro che questo oltretutto come copertina è molto bella infatti me la tengo come jolly in caso io non sappia che copertina mettere in bella vista questo è molto bello esposto da qua in poi sono tutti bianchi praticamente i libri Il Buio Oltre la Notte di Michael McConnelly mi è arrivato anche questo regalato da quelli che non volevano più quei libri e quindi niente me l'hanno dato Kill Creek di Scott Thomas mi incuriosisce tantissimo e non vedo l'ora di leggerlo Miss Peregrine è la casa dei ragazzi speciali primo di una serie non l'ho ancora letto e se mi piace recupererò gli altri Vox di Christina Dalcher Distopico in cui le donne non possono dire più di 100 parole al giorno Anna sta mentendo di Federico Baccomo è un libro che ho iniziato sono arrivato a metà e non l'ho mai finito non mi ha mai ispirato tantissimo lo comprei una cosa come 5 anni fa non lo so lo tengo ancora perché voglio dargli un'altra chance La verità sul caso di Eric Ebey di Joel Decker che vi dicevo prima questo invece è bellissimo andando oltre Bianca come il latte rossa come il sangue Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Holyman Natale con i fantasmi Le sette morti di Evelyn Alcarston di Stuart Tarton è meraviglioso La ragazza con l'orecchino di perla di Chevalier letto tanti anni fa e mi era piaciuto un sacco Fottuta campagna di Ariana Porcelli-Saponof se abitate in campagna e vi volete fare due risate ve lo straconsiglio Gli amanti della notte di Meiko Kawakami Aurora Damityville ho scoperto essere un libro molto cercato e io l'ho preso regalato su Vinted cioè non sapevano cosa volevano farmi un regalino detto di scegliere tra una serie di titoli io ho scelto lui in realtà ho scoperto che è un fuori produzione e quindi niente me lo tengo da caro pensate che l'avevo preso perché mi sembrava almeno peggio Morto Forte incredibilmente vicino Pastora l'americana di Philip Roth La vita prima dell'uovo di dell'uomo non dell'uovo di Margaret Atwood Bulzati Il grande ritratto Amore psiche di Apuleio Quiet di Susanna Kane dovrebbe essere un saggio che parla delle persone introverse Toppi di Gordon Reese e Suscettibile un libro veramente particolare che non vedo l'ora di leggere questo mi è arrivato per puro caso dico la verità sempre regalato ma parla praticamente di un uomo che si crede incinto è una cosa un po' strana ultimo scaffale ma non per importanza Enaudi Il ladro di anime Le otto montagne di Cognetti Infinite gest di Wallace Un mattone Non lasciarmi di Ishiguro sempre di Wallace Brevi interviste con uomini schifosi Il conte di Monte Cristo di Alexandre Dumas L'invenzione di noi due di Matteo Bussola meraviglioso Lacci di Starnone Se i gatti scomparissero dal mondo di Genki veramente molto molto carino La strada di McCarthy La sostanza del male di D'Andrea e anche Lissi è di D'Andrea La paziente silenzio e per ultimo prima che si scaricasse la fotocamera Trilogia della città di K di Agota Christophe e questa ragazzi e ragazze è la mia libreria spero vivamente che vi sia piaciuta fatemelo sapere qua sotto nei commenti e ovviamente il tempo che avrò montato e pubblicato questo video sarà già cambiata perché ogni volta che arriva un libro nuovo in casa mia devo subito fargli spazio all'interno dei miei scaffali e quindi sposto di nuovo tutto però niente dovrei fare praticamente questo video una volta al mese per tenerlo aggiornato ma mi rendo conto che sia una cosa assolutamente inutile quindi per ora questo è quello che c'è all'interno della mia libreria vi farò un aggiornamento più avanti e nulla spero che vi sia piaciuto fatemelo sapere ripeto qua sotto nei commenti o con un like noi ci vediamo al prossimo video e fino ad allora buona lettura a tutti ciao ciao Grazie a tutti.